L'UGL Salerno esprime piena solidarietà ai lavoratori della Cooper Standard Automotive di Battipaglia, attualmente in sciopero a tempo indeterminato a causa della grave crisi occupazionale e produttiva che rischia di compromettere l'intero stabilimento e la comunità locale. Lo stabilimento, che impiega circa 500 lavoratori e fornisce servizi strategici al gruppo Stellantis, è ora a rischio chiusura con la possibilità di perdere oltre 100 posti di lavoro. Carmine Rubino, segretario generale dell'UGL Salerno, ha dichiarato solidarietà ai lavoratori della Cooper Standard di Battipaglia. La carnificina dei lavoratori della nostra provincia continua senza sosta. Le politiche miopie prive di programmazione, prosegue Rubino, stanno conducendo il nostro territorio verso una pericolosa deriva. La continua perdita di posti di lavoro, ha detto ancora Rubino, e la chiusura di grandi realtà industriali impoveriscono ulteriormente la nostra regione. La deindustrializzazione è ormai una drammatica realtà. In questo momento difficile daremo tutto il nostro supporto e faremo tutto quello che nelle nostre possibilità per evitare un nuovo disastro nella Piana del Sele. La situazione di Cooper Standard, continuano dal sindacato, è il risultato diretto delle scelte produttive del gruppo Stellantis, che ha avviato una strategia volta a privilegiare stabilimenti al di fuori dell'Italia, in particolare in Serbia e nella Repubblica Ceca, dove i costi di produzione sono più bassi. Questa decisione penalizza in maniera significativa i siti italiani, con conseguenze devastanti per l'economia locale. La segreteria dell'UGL Chimici, dopo la risoluzione FOS, solo per l'intervento di un imprenditore locale e davanti all'ennesima crisi che mette a rischio il futuro di centinaia di famiglie dell'intera comunità, chiede con forza l'intervento della politica locale, regionale e nazionale per trovare una soluzione immediata a questa situazione. Non possiamo permettere che queste decisioni ricadano ancora una volta sulle spalle dei lavoratori e, fondamentale, hanno spiegato dal sindacato di categoria un intervento rapido e deciso da parte delle istituzioni. La segreteria dell'UGL Salerno promette di continuare a sostenere i lavoratori e lottare al loro fianco, con l'unico obiettivo di evitare il ridimensionamento della forza lavoro e garantire un futuro stabile all'industria chimica e manufatturiera del territorio.